Il Fondo Pensione si valuta nei decenni, non nei mesi, quindi se guardano quello che è successo negli ultimi dieci anni vedranno che tutte le linee sono positive, quindi bisogna essere molto fiduciosi e confidare nel fatto che avere una previdenza complementare è assolutamente necessario per fare una vecchiaia serena. Sì, è la conferma che quando si parla con le persone, anche giovani, le persone si convincono del vantaggio dell'essere iscritti a una forma di previdenza complementare, quindi è sicuramente molto importante aderire.